Salve ragazzi e bentornati su Pokémon Plugin Allora, quest'oggi dovrebbe concludersi la terza parte di questo maxi video che comprende la cattura di Dialga e Palkia Nella prima parte abbiamo ottenuto la Splendisfera e la Damasfera Nella seconda parte abbiamo catturato Dialga e in questa qui proveremo a catturare Palkia Ma come si fa a catturare Palkia? Visto che Dialga era qui sulla Vettalancia, invece con Palkia come si fa? Adesso ve lo dico subito, però prima come sempre vi invito a lasciare un mi piace, iscrivervi al canale per essere sempre aggiornati e per continuare a supportarmi E anche a commentare qualsiasi vostro dubbio, consiglio o perplessità, a seguirmi sulla pagina Instagram e a sostenere il canale tramite una donazione Tutti i link sono in descrizione Allora ragazzi, come catturare Palkia? Molto semplicemente basta tornare indietro alla Vettalancia, avendo chiaramente anche la Splendisfera nella borsa Andiamo sopra e come è comparso lo squarcio per Dialga nella scorsa puntata, adesso comparirà lo squarcio anche per Palkia Semplicemente quando riesci a catturare il primo ti esce il secondo squarcio, molto semplice Quindi ragazzi, adesso proveremo appunto a prendere Palkia, nella speranza di non sbagliare qua con le miniature Allora, parliamo con lo squarcio, dall'altra parte dello squarcio in un luogo strano e misterioso c'è Palkia Vuoi lottare con Palkia? E lottiamo con Palkia ragazzi Palkia, chiaramente ragazzi stessissima, chiaramente identica strategia utilizzata per prendere Diag Quindi prima proviamo a paralizzarlo e poi a buttarlo giù con Garchon per i vari falsi finali Allora, Tononda, prima cosa, anticura, è più veloce, bene Beh, per essere più veloce di Raichu so che Raichu è un Pokémon abbastanza rapido Quindi vuol dire che è bello rapido, sicuramente attaccherà anche prima di Garchon, secondo me Comunque sicuramente paralizzato A sto punto proviamo ad indebolirlo il più possibile con attacco rapido Ok, va bene, Geoforza sicuramente fa molto male al Raichu Essendo l'opago un tipo elettro, ma potrebbe resistere Perché comunque potrebbe resistere Potrebbe resistere e infatti resiste Quindi io vado addirittura di Fulmine per farti più danno possibile per poi utilizzare il falso finale di Garchon Vediamo quanto gli fa Fulmine Gli fa abbastanza, va bene Ok, nessun effetto Riproviamo Fulmine a sto punto Spero non faccia un brutto colpo, altrimenti mi arrabbio Vediamo Attenzione, ok, benissimo, lacerazione E stavolta si, che Raichu, va giù Va bene, non c'è problema Adesso è il momento di Garchomp Ok, ora è tutto sulle tue spalle Garchomp e sul tuo falso finale, vai Primo falso finale, chiaramente ragazzi I Pokémon non me li so curati rispetto alla scorsa lotta con Dialga Perché dovevo uscire poi dalla vetta Lancia A rifarmi tutto il percorso, sinceramente non mi sembrava il caso Visto che avevo tutti quegli strumenti che appunto abbiamo utilizzato nella scorsa puntata Adesso dovrebbe essere sicuramente un PS Io lo rifaccio per sicurezza, ma perché ho le fisse io, ma adesso è sicuramente un PS Quindi, allora, è il momento delle Ultra Ball che sono ancora qui salvate Per Dialga ragazzi, ci abbiamo messo solamente due Ultra Ball Vediamo per Palkia quante ce ne vogliono Non ci credo ragazzi, ma erano scriptati Non è possibile, la prima Ultra Ball preso Palkia di Alga ce ne sono volute due Invece solamente una per Palkia Evidentemente questi due Pokémon hanno un catch rate abbastanza alto E avendoli portati veramente al limite è stato semplice Comunque Palkia, Pokémon Spazio, Acqua Drago Pokémon leggendario delle regioni di Sinnoh Si dice che lo spazio diventi più stabile al suo respiro Ok, voglio dare un soprannome a Palkia, no? E adesso ragazzi possiamo uscire finalmente dalla vetta Lancia Questo squarcio emanano travolgente sensazioni di spazio Dove condurrà? Chi lo sa, chi lo sa Però una cosa che posso vedere, posso provare a vedere E cosa succede adesso che ho preso sia di Alga che Palkia Io provo a tornare all'interno della vetta E chiaramente stavolta non c'è più nulla, ci mancherebbe Allora adesso dobbiamo trovare un modo per scappare da qui Forse funziona, non si può usare qui bene Ma credo si possa usare all'uscita Quindi qui Nella speranza che non mi faccia uscire sulla vetta Lancia Ma sarebbe strano, vediamo Ok, se mi fa uscire un passo indietro impazzisco Ma dovrebbe farci uscire proprio fuori E infatti ragazzi, perfetto, perfetto Allora, andiamo a vedere subito di Alga e Palkia Siamo qui a Mineropoli Cioè comunque Mineropoli qui sotto Ok, adesso facciamo un po' di cose tecniche Allora ragazzi, ormai per i leggendari Se non sbaglio manca L'evento di Manafiforce, non mi ricordo E soprattutto i tre uccellini leggendari Che sono quelli più rompiscatole Allora, sicuramente proverò a far tutto Vediamo un po' che succede Allora, sicuramente la prima cosa che succede È che mettiamo al posto di Alga E che mettiamo al posto Palkia E li mettiamo qui Bene Allora, poi Mi vado a prendere Drifblim E lo vado a mettere al posto di Bibarel Ok E lo mettiamo qui Poi ragazzi, momentaneamente potrei Togliere anche Haunter, forse Sì, però vabbè non fa niente alla fine Ok, allora Vediamo un attimo le statistiche Di questi due Pokémon Allora, di Alga Chiaramente presa a livello 70 3 Agosto, 23 È il giorno che sto registrando L'abilità è pressione Un attacco speciale molto alto Fra core tempo 5pp Anticuragio, forza e lacerazione Ok, invece per quanto riguarda Palkia Le mosse sono Fendi spazio Che è la cosa opposta fra core tempo Anticuragio, per lui Già forza e lacerazione Quindi hanno solamente una mossa Una mossa differente Anche lui ha pressione Anche lui Un attacco speciale altissimo Sono molto simili È un Pokémon con la natura ingenua E questo è ragazzi Bene Ce l'abbiamo fatta Direi che per ora possiamo uscire un attimo E tornare un attimo alla Lega Pokémon Per fare il nostro classico No? La nostra classica spesa Non ho colato i Pokémon Sono uno stupidino È importante però adesso E avere Drifblim Da poter utilizzare Per andare a spasso Andiamo Poi ragazzi Dopo tutti i leggendari Che ormai manca poco Ci faremo il rematch Della Lega E poi possiamo concludere Questa avventura Io credo che saranno Più di 80 puntate Non credo di fare cifra tonda Questa è quella puntata 77 77 Poi nella 78 Dovrei provare a prendere I tre uccelli E sicuramente La 79 Un'ultimo evento E ragazzi Non credo Adesso vediamo un po' Può essere pure che Non riuscirò a fare qualcosa E quindi Ce le vorrei fare in modo Che la puntata 79 80 Siano Diciamo Le ultime due Così finisco esattamente A 80 puntate Altrimenti va a finire Che finisco a 81 Vediamo ragazzi Vediamo Vediamo Alla fine pure se finiamo a 81 Non fa niente Comunque allora Possiamo comprare un attimo Ci servono Delle Scurable No Ho semplicemente utilizzato Tre Ultra Ball Quindi Prendiamo queste tre Ultra Ball Ok Compra Compra Ultra Ball Poi vabbè Gli strumenti Medici Diciamo li Acquisteremo Nel momento in cui Andremo a fare La Lega Quindi ragazzi Io direi che Per il momento Posso fermarmi qua Sì Posso fermarmi qua Sicuramente Andrò a controllare Cosa ci manca ancora Per il resto Io appunto Vi saluto qui Come sempre Vi invito A lasciare un mi piace A iscrivervi al canale A seguirmi sulla pagina Instagram A sostenere il canale Tramite una donazione Noi ci vediamo Alla prossima E ciao a tutti